Buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio, buon pomeriggio, un po' di vento, ma è ok, sì, è ok. Scusate, faccio un po' di fitness, sì, sì, un po' di fitness, la mia usuale fitness, spero che non mi piace molto, solo un minuto, un minuto, 30 secondi probabilmente, ma mi piace la canzone, mi piace la canzone, quindi potrei parlare un po' di più. Let's dance. Buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio, un po' di più. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti